Buona domenica dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Si ricorda l'obbligo di dotazioni invernali a bordo come catene da neve o gomme termiche per la maggior parte delle strade e autostrade toscane. Elenco disponibile sui nostri canali social. Sulla A1 ci sono code per traffico verso Roma, Travaldarno e Arezzo. Code in entrambe le direzioni in uscita ad Arezzo. Prudenza per la presenza di personale in A12, Taccone Salvetti e Rosignano Marittimo per i mezzi in viaggio verso sud. Si ricorda la chiusura della strada statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano a chilometro 40 e 500 per caduta massi. La riapertura è prevista per Natale. In via degli orti oricellari a Firenze dal lunedì 19 dicembre sono in programma i lavori per un nuovo allaccio idrico con chiusura del traffico da via Palazzuolo a via della Scala. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!